Abbiamo qui con noi Alessandro Poletto, growth taker, interessato ad ogni aspetto della tecnologia, si interessa di marketing e intelligenza artificiale, eticamente orientato alla condivisione della cultura informatica. Vi posso dire che questa persona nel 1996 ha portato internet in Piemonte con video online, per chi sa cos'è video online e cos'era internet nel 1996, vuol dire che qui abbiamo una persona. Quindi, signori e signori, Alessandro Poletto ci parlerà di problemi di incompatibilità di trafugo d'analytics e strumenti di analitica GDPR. Alessandro Poletto. Allora. Grazie, grazie. L'argomento potrebbe non essere dei più divertenti, soprattutto perché determina una incombenza a cui dobbiamo assolvere, magari non recepita e non ben capita neanche delle motivazioni, per cui magari facciamo una rapida carrellata su che cosa è successo, perché il garante è arrivato a chiederci, anzi è arrivato a chiedere a Google di adeguarsi, e noi in altri modi abbiamo dovuto fare in modo che alcuni siti funzionassero in maniera diversa, in modo da comunicare in modo corretto. Per cui, il titolino l'ho messo perché è una struggente storia di amore e odio, ma c'è l'amore in questa cosa. C'è l'amore perché una maggioranza che io userei definire bulgara di siti usa Google Analytics. Ci sono dati statistici in cui tra i 30 e i 50 milioni di siti nel mondo utilizzano per le analitiche Google Analytics. Quale sia poi la percentuale, quindi, soprattutto in Italia, dei siti che hanno attivato Google Analytics, questo non ve lo so dare come dato, non l'ho trovato, ma neanche tanto l'ho cercato, secondo me quasi tutti, per dire in maniera semplice. Chiunque abbia sentito la necessità di misurare l'efficienza e il funzionamento del proprio sito ha facilmente attivato Google Analytics negli anni. Questo, mi permetto, è una battuta e non vuole essere una critica per l'ineadeguatezza tecnologica dell'operatore di SEO, che non vuole essere una cosa negativa, ma l'operatore SEO tecnologicamente non dovrebbe interessarsi di argomenti di questo genere, ottimizzare veramente il codice, dovrebbe avere un interlocutore e dirgli, senti, metti a posto quell'H3 e lo fai diventare H1, e tante altre cose di questo genere. Google eroga questo servizio fantastico, Google Tag Manager, e questo diventa lo strumento. Andiamo in altre conference che parlano di analitiche, di SEO, e praticamente tutti parlano di Google Tag Manager. Ora, Google Analytics è anche un prodotto gratuito. Nella realtà non è assolutamente vero, l'abbiamo capito, spero che tutti l'hanno capito. Noi paghiamo Google alla stragrande con tutti i dati che gli diamo. Se Google guadagna miliardi di dollari con la pubblicità, li guadagna solo, no, non è forse esagerato, li guadagna molto grazie a tutte le informazioni che gli stiamo dando, perché usiamo un suo software gratuito. Noi crediamo fermamente di fare una cosa grandiosa e bellissima, e nella realtà gli stiamo regalando tantissime informazioni. Mi sono permesso di dire quindi che i miopi budget aziendali hanno fatto in modo che la scelta andasse verso lo zero, non verso qualcosa. Vorrei dire una cosa fondamentale, l'ultima riga di questa, che è lo stato di fatto attuale, il garante non è qualcuno che ci vuole male, forse è proprio la persona che ci vuole più bene, soprattutto come utenti, utenti normali, utenti di tutti i giorni, e cerca veramente di tutelarci, non ci sta vincolando. Spesso quando ChatGPT è stata oscurata, probabilmente è stata inibita l'accesso dall'Italia, abbiamo tutti detto il garante ha fatto un'azione, poi ho fatto un video a riguardo, così faccio anche un po' di pubblicità, in cui dico magari lo deve fare meglio come intervento il garante, si è proprio lasciato un secondo andare, vabbè, non sono io il garante, c'è gente più brava di me. Ora, sempre parlando dei fatti, Google Analytics 3, Universal Analytics, non esiste, non ne parliamo neanche, primo di luglio non c'è più, fine, poi magari arriverà la proroga un po' all'italiana, ma non esiste. Quindi andiamo avanti e ci ricordiamo che il garante, tutto quello che ha detto, l'ha detto per il momento in riferimento a Google Analytics 3, e anche su questo deve fare una precisazione dopo tutto quello che ha detto, ha detto quasi tutto quello che è stato importante, riferito a Google Analytics 3, Google Analytics 4, invece per il momento vive di cose dette in riferimento al suo predecessore. Quindi per il momento il garante non ha detto, spegnete subito Google Analytics 4, però ha detto agli utenti attenzione che quello che è successo con Google Analytics 3 succederà con Google Analytics 4, anche in questo caso lui non l'ha detto, lo dico io, lo dico io perché è logico che lo dica, perché è esattamente la stessa situazione. Quindi oggi noi abbiamo un po' la fortuna di vedere Analytics 3 uscire, ma usiamo Analytics 4, ma nella realtà il problema risorgerà. perché il problema risorge? Perché grazie all'interpolazione dei metadati relativi alla navigazione è possibile tranquillamente trasformare i dati anonimi in dati non anonimi, ovvero per dirla in soldoni, Google del fatto che non gli dica da chi i P sono non gliene frega niente, lo sa che sono io. Io lo dico così, speriamo che nessuno mi querelli, ma il però è evidente, è evidente perché anche se il remarketing effettivamente dovrebbe essere bloccato, ma nella realtà dei fatti anche se Google magari lo maschera bene, ma il dato l'ha acquisito e sa perfettamente chi siamo. L'altro grande intervento importante che il Garante ha fatto sempre in nostra tutela è quello della cookie policy. Se qualcuno macina un po' di dati relativi a Google Analytics, fa un po' di attività di SEO, sa che tra il 50% e il 75% della navigazione ad oggi è nascosta perché non accettiamo i cookie. Perché gli utenti tipicamente tendono a non accettare i cookie nella fase di primo accesso al sito. Questo inibisce l'attivazione dei javascript nei siti configurati in maniera corretta e quindi non permette di comunicare a Google le informazioni relative al tracciamento della nostra navigazione. Quindi ricordiamoci anche quindi su questo discorso che Google Analytics è un sistema che oggi rileva tra il 50% e un quarto della navigazione degli utenti. Quando vediamo che ci sono mille visite sul sito nella realtà dobbiamo pensare che ce ne sono o 2000 o forse anche 4000 sul sito. E accettiamo tutto questo. Quindi accettiamo che è gratuito, accettiamo che gli diamo i nostri dati, accettiamo che ci guadagni e che ci fornisca anche dei dati sbagliati ma va tutto benissimo così. Sono sicuro che questa pratica tale per cui l'utente fornisce i dati in modo corretto cioè noi adeguiamo i nostri siti però si riesca sicuramente a riestrare il dato originario per lo meno per clusterizzazione sicuramente farà sì che il garante interverrà da qui a poco. Un po' anatema questo, non volevo. torniamo un po' all'inizio quindi parliamo del fatto che i nostri dati che prendono e cominciano a partire se ne vanno in giro per il pianeta e non sappiamo dove sono non abbiamo la possibilità di gestirli non che poi proprio tutti noi abbiamo la voglia di passare le nostre giornate a cercare dove siamo censiti dove sono finiti i nostri dati non abbiamo il tempo di farlo però un giorno potrebbe essere abbastanza interessante sapere perché quello lì ha i miei dati e magari chiedegli toglili ma i dati che sono usciti sono finiti su un paese straniero sono entrati da un'altra parte a quel punto l'azienda che magari è in uno stato con una scarsa tutela ci dice sono fatti miei dove l'ho trovato e si deve fermare lì la situazione non posso essere tutelato mondialmente da un regolamento di un garante europeo ovviamente italiano per cui oggi possiamo dire che la regolamentazione europea è un gran bel benefit che abbiamo e che ci aiuta a formalizzare la nostra situazione nei confronti con i nostri paesi vicini da un punto di vista geopolitico sia ben inteso mentre internet non è un'entità geopolitica e mondiale quindi ci troviamo sicuramente nella difficoltà di dire mi piacerebbe che la mia informazione fosse tutelata ma la mia informazione è uscita il garante ci sta aiutando a evitare che la nostra informazione esca se noi fossimo tutelati già a quel livello lì sarebbe una grandissima cosa per questo motivo che sono costanti segnalazioni da parte del garante verso chiunque e verso qualunque cosa perché l'abbiamo visto passare c'è TGPT in questi giorni l'abbiamo visto passare verso Facebook l'abbiamo visto passare verso Google Analytics l'abbiamo visto sanzionare aziende in giro per l'Italia per l'Europa ma questo perché spesso e volentieri il business fa sì che cerchiamo di ottimizzare di ottenere il maggior numero di informazioni elaborarle e gestire un po' il problema privacy un po' come un'incombenza e non come un'utilità sicuramente per chi sviluppa business è un'incombenza e non è un'utilità questo siamo sicuri per cui attenzione ai servizi che utilizziamo se utilizziamo servizi diciamo almeno domiciliati in Europa o anche eventualmente negli Stati Uniti che siano tutelati da quella simpatica cookie notice e utilizziamo la cookie notice in maniera corretta magari riusciamo a tutelare un po' i nostri dati e fino a qui va tutto bene togliamo un po' un'allerta certamente è che la dimensione del mercato determinerà qual è la parte da parte degli operatori l'adeguamento alle norme e questo significa più o meno quello che riuscirò a dire se va avanti non va più avanti va bene facciamo così non va più avanti nulla ecco che a questo punto parliamo esclusivamente di analytics e poi vedremo le alternative ad analytics ed è il motivo per cui vi accennavo al fatto che è il mercato che determina la ricerca della soluzione allora cominciamo con il dire che abbiamo due possibilità per aggirare e gestire il problema gdpr e google analytics una è le politiche di analitiche in house quindi portarsi il google analytics in casa con tutte le sue difficoltà e l'altro è la gestione del servizio google analytics ma anonimizzato in maniera corretta parliamo delle analitiche in house e qua parliamo del famoso matomo e di tanti altri perché non c'è stato tanto matomo però matomo è il più grande quindi si parla molto di che cosa succede se scegliamo un sistema di analitiche portato in casa matomo abbiamo notevoli contro per cui abbiamo un costo di possesso di questa analitica importante abbiamo una curva di apprendimento non è che immediatamente accendiamo e abbiamo google analytics di fronte abbiamo un'interfaccia diversa per cui tutti i seo che si sono schillati in tanti anni tanti mesi si trovano di fronte ad un'interfaccia totalmente nuova e non bella come quella di google analytics devo dire matomo non mi parla con network esterni per cui io quello che poteva essere il passaggio tra permettetemi da google analytics da di words o ad altri network questo non può più avvenire se non poi attraverso integrazione con tool di terze parti o eventualmente con ulteriori plug-in c'è un altro grosso problema che rientra nella casistica del total cost ownership che è l'affidabilità del servizio non ci abbiamo mai pensato ma il fatto che google sia lì ci garantisce del fatto che il dato arriverà a google con tanti piccoli problemi con tante incertezze però alla fine il dato c'è invece se io porto le analitiche in casa quel server può bloccarsi può avere dei problemi può andare giù quel cluster può qualunque cosa per cui se la situazione è particolarmente critica nel senso che è un servizio importante con buon traffico è facile che sia necessario bilanciare questo server magari con due installazioni per poter fare in modo che il dato sicuramente arrivi questi sono i contro ma i pro sono enormi il pro vuol dire avere i dati in casa tutti i dati avere una perfetta compatibilità gdpr perfetta se ho rispettato però l'anonimizzazione iniziale questo certo io in ogni caso non è che posso andare a recuperare assolutamente tutti i dati e gestirli è totalmente open source e ha tantissimi bei plug-in anche se alcuni decisamente a pagamento cosa vuol dire avere i dati in proprietà vuol dire realmente accedere a tutti i dati cioè oggi google in alto ce lo scrive tutto quello che stai leggendo è un dato statistico non è il dato reale del tuo accesso sul tuo sito questo sfugge incredibile perché è veramente scritto sempre in alto google and disk 4 in tutte le pagine eppure non lo leggiamo cioè google neanche lui sta più dietro a tutti questi dati e quindi ci sta dicendo io i dati non te li tengo io ti tengo una statistica una previsione dei dati che tu hai abbiamo i servizi di anonimizzazione allora questo da policy WordCamp è il servizio che noi abbiamo effettivamente implementato ma ce ne sono molti altri disponibili noi lo forniamo in maniera totalmente gratuita quindi se vi interessa farci un giro potete tranquillamente utilizzarlo si tratta semplicemente di mandare una chiamata assolutamente uguale a quella di google analytics di analytics 4 di mandarla invece a un vostro cname quindi voi avete il sito.it manderete a abc sito.it e abc sarà un proxy per voi impostato e per voi soli che prende la domanda la request e la inoltre server to server a google oltretutto l'inoltre viene realizzato in maniera totalmente anonimizzata così come il garante ha chiesto per cui non dovete impazzire per anonimizzare i campi non basta anonimizzare l'ip sia ben inteso le specifiche del garante dicono che non basta semplicemente anonimizzare l'ip o eliminarlo bisogna andare a cambiare anche una parte di user agent ma comunque si può fare nel senso che possiamo tranquillamente fare tutta questa trafila oppure servizio gratuito tac la cosa va oltretutto il servizio gratuito di cui sopra da qui spero pochi settimane mesi renderà fruibile una soluzione di analitica base diciamo similare o assimilabile a quella che attualmente si può utilizzare come prima pagina di google analytics che è tipicamente quello che tantissimi clienti ci chiedono intanto che appunto non si fa qualche azione di marketing sul sul sito stesso idem come sopra in casa sul proprio sito con molta calma si può fare tranquillamente da server to server quindi invece di comprare un servizio o fruire di un servizio esterno in casa c'è la possibilità tranquillamente di collegare server to server il mio sito con il con google analytics anonimizzandolo ci sono tutte le specifiche tutti i tutorial da youtube qualunque altra cosa spiegano come fare non è assolutamente semplice per cui ovviamente nei pro e nei contro è definito soprattutto nei contro ci vuole un po' di competenza tecnologica un po' tanto allora allora i sistemi di quindi per gestire un correttamente le adempienze di google di imposte dal garante per google analytics abbiamo visto quali sono le possibilità non ci sono effettivamente problemi ad andare a migrare su soluzioni perfettamente gdpr compliance ma la grande differenza fra utilizzare la versione server side quindi la possibilità semplicemente di inoltrare il traffico e il portarsi in house i dati è veramente enorme portare in house i dati significa realmente poter riavere accesso all'informazione riavere accesso all'informazione significa come ho sentito in un talk precedente poter identificare perfettamente gli errori ovviamente questo non è possibile con un sistema off poter valutare le velocità in maniera semplice e non dover passare da google analytics alla search console fare 400 giri sicuramente l'optimum secondo me è quello di abbandonare i servizi di questo tipo di google il fattibile è tutto un altro discorso perché anche in questo caso io devo poi consegnare l'accesso all'it manager o al ceo dell'azienda di un matomo non ne vengo fuori devo consegnargli l'accesso della prima pagina di google analytics e va tutto benissimo viene visto ah sì tanto quello che mi serve sono il numero di visite al giorno possono essere di qualunque genere più o meno profitte anche inutili se sono tante va tutto bene io direi questo è una scopertiare guardare il pinguino sopra l'iceberg neanche la punta dell'iceberg guardarci oltre guardarci più ancora più in alto è proprio soltanto un 30 minuti per un argomento che nella realtà ha impegnato gli ultimi sei mesi dell'interesse che c'è su la parte di analitica e di SEO su internet grazie Alessandro domande? avendo un esempio con un proxy in funzione non posso fare a meno ma dopo l'utilizzo del proxy le analitiche restituite da Google hanno un senso o no? perché non immagino come riesca a dividere le visite dai visitatori eccetera eccetera se c'è l'analitica del proxy in mezzo allora Google risolve tanti problemi l'IP è proprio la punta di scopo la punta dell'iceberg i cookie è la chiave di volta grazie ai cookie ci si permette di valutare il numero di pagine vista per sessione il numero di sessioni e il numero di visite quindi è esclusivamente grazie a quello altrimenti tutto il resto finisce nel calderone del non identificato che in questo momento non esiste su Google e questa è una cosa importante e noi abbiamo noi abbiamo mille visite e di queste sappiamo tutto delle 3.000 che non vediamo non sappiamo niente perché non ci sono delle 3.000 le vedremo oggettivamente in un unico grosso cluster questo è un vantaggio per avere una visione più grande una inutilità perché alla fin fine non ci faccio attività di marketing sopra ma in ogni caso l'attività di marketing di base tipo ma quante persone vengono a vedere nel mio negozio di abbigliamento le gonne o i pantaloni è ipotizzabile che se tutti vanno a vedere i pantaloni è un po' vanno a vedere i pantaloni se il 90% vanno a vedere i pantaloni il 90% sono uomini è proprio una banalizzazione terribile però grazie a questi dati si possono poi rianalizzare al contrario informazioni che in questo momento non abbiamo quindi il proxy il difetto ce l'ha il difetto del proxy oltretutto che ho saltato la zai perché eravamo a 5 minuti un altro difetto di proxy è che mentre il server side è impostato esattamente come google vuole però poi si entra nella pagina di google analytics 4 e alcuni report sono da riconfigurare niente di particolare e trascendentale bisogna ricollegare i campi per vedere i grafici oggettivamente è il funzionamento di google analytics quindi non è una cosa molto particolare però è una seccatura che obbliga magari una decina di minuti di lavoro in più rispetto a mettere UA e post l'UA sono rimasti indietro scusate altre domande? sì ciao volevo chiederti ok il discorso di dare gli accessi al CEO e tutto quanto capisco la difficoltà e che problemi poi ci potrebbero essere ma quindi ad oggi tu effettivamente cosa consigli? cioè come muoversi ad oggi? dare consigli secondo me è proprio sbagliato a prescindere perché in relazione all'azienda che ti trovi devi avere la possibilità di comunicare e capire che cosa si può fare dato sono un po' negativo su questo dato livello culturale tipico italiano state su analytics mettiamo eventualmente un proxy ed è già tutto un casino così non ci capiamo quindi va bene così e ti presento un foglio excel perché poi alla fine vogliono un foglio excel che non sono in grado poi di leggere va bene un bel grafico con una curva che non serve quasi a nulla e siamo tutti soddisfatti di aver fatto il nostro lavoro stiamo andando in un ufficio marketing stiamo andando verso un IT manager stiamo andando in un'azienda strutturata con una conoscenza di marketing digitale un po' avanzata qualunque cosa l'importante è capirsi se l'IT manager accetta l'ingresso di matomo sarà lui a essere entusiasta di averlo se l'IT manager dice cosa che è successa qualche giorno fa con un'azienda interessantissima mi dice no noi abbiamo tutto su google tag manager e google tag manager non ci facciamo server side non ci facciamo proxy non ci facciamo niente non c'è possibilità di fare assolutamente nulla gli ho detto va bene continua così ci vediamo alla prima sanzione sarà così non può fareci altrimenti non c'è alcuna soluzione per cui ci si trova di fronte a tutto lo scenario e come qualunque attività commerciale se ne parla io come entusiasta open source e anche siamo qua al work camp direi installa subito un matomo attenzione non un matomo su wordpress bellissima l'installazione fantastico perché premio un tastino installi tutto è una bellezza ma appesantirlo ulteriormente non me la sento prendo un terzo livello un hosting che mi fornisca il terzo livello lo installo lì almeno quello è il primo passaggio domande? si si è parlato tanto di compatibilità con il GDPR di Google Analytics G3 G4 Google Font eccetera ho sentito parlare poco di search console immagino sia la stessa cosa perché non dovrebbe esserlo stessa famiglia se il garante a luglio dell'anno scorso avesse detto basta con Google cosa avremmo fatto io ritengo che sia stato questo il motivo per cui non abbia non si sia espresso in questo modo perché avrebbe dovuto se avesse dovuto fare un intervento sulla tutela della privacy a 360 gradi avrebbe detto boh per il momento lo spegniamo poi Google si adegua e qua era la slide relativa se noi come potere Europa decidiamo di spegnere un certo servizio il gestore del servizio che si muoverà a farlo diventare perfettamente compatibile e qui rientriamo nella battuta di questi giorni in cui le richieste secondo me del garante nei confronti di JustCPT sono assolutamente inarrivabili e quindi qui arriviamo al livello di assurdità perché qui stiamo per andare a chiudere un servizio che doveva essere gestito non semplicemente chiuso ma questo è un argomento lunghissimo che non è il caso di affrontare adesso vedremo poi il 30 di aprile manca poco però sembra che a maggio ci sia un accordo forse tra garante e chat GPT sembra incrociamo le dita il 30 di aprile il 30 di aprile vediamo cosa succede comunque vedi Lomino è una foto fatta a Reykjavik secondo me siamo in questa situazione qua dobbiamo chiuderci per non poter più usare le nostre le nostre funzionalità perché dobbiamo riuscire a blindarci in tutti i modi possibili e non è più facile domande? Gabriele piacere ovvero credo che ci sono situazioni in cui purtroppo è imprescindibile utilizzare questi strumenti di Google soprattutto quando si parla di campagne di AdWords perché anche se forse solo per fare un matching tra quello che può determinare lo strumento interno o AdWords e credo che in caso di progetti grandi di clienti esigenti con IT non è forse la meglio soluzione combinare i due strumenti per arrivare a delle conclusioni più perché poi alla fine se hai AdWords i dati li prendono comunque però AdWords mischia i dati con Analytics ovvero alla fine ha un suo vantaggio se poi abbiamo pure dei dati nostri interni meglio ancora ora mi chiedo che succede se ti rendi conto di fanno pagare dei click che non sono mai stati fatti poi su questo discorso qui sono anni che cerchiamo di capire se i click che paghiamo sono quelli veri o non siamo quelli veri ma questo è di nuovo un altro talk di 11 ore ma il discorso interfacciamento Analytics Analytics comunque la parte di remarketing verso Google ADS è una cosa che certamente non dovrebbe essere fatta questo è veramente così già da oggi ad oggi anche i servizi di proxy inibiscono implicitamente il remarketing ulteriore risposta alla persona là dietro che mi aveva fatto la domanda perché tolgo le funzionalità di tracciamento sufficientemente necessarie a fornire un servizio valido e certo da parte di Google perché è vero che lui può riclasterizzare ma probabilmente gli costa troppo in termini economici per fornire la stessa interfaccia verso Google ADS quindi di nuovo è un grandissimo secondo me una certezza il fatto che non possiamo usare remarketing questo ne siamo sicuri però secondo me il fatto che Google non rierogherà più servizi di remarketing se il garante andrà oltre sul discorso anche su Google Analytics 4 di richieste per la tutela della privacy degli utenti però ricordiamoci nasce ADS nasce Analytics lo mettono insieme noi fruiamo dei servizi adesso scorporiamo i servizi e noi ci sentiamo senza servizi e cerchiamo di ricrearsi da qualche altra parte magari cerchiamo di utilizzare cerchiamo ci dovrà anzi tornare indietro in un futuro non più ad un unico grande operatore ADS ma magari a tanti operatori ADS che vi possono fornire visibilità dove farò uno scambio corretto di dati a livello europeo magari senza il mantenimento del dato insomma il panorama è difficilissimo e io non vorrei essere certamente il garante scorza e compagnia bella perché sono ambiti troppo complessi io mi trovo a doverli gestire da punto di vista tecnico immagino da punto di vista regolamentazione e legislativo non ho neanche idea di come fare perfetto il tempo è scaduto grazie ad Alessandro Poletto grazie a tutti grazie a tutti